La settimana in Consiglio La settimana in Consiglio La settimana in Consiglio Ispirate alle opere narrative e poetiche di autori piemontesi Da Cesare Pavese ad Alessandro Baricco Gli spettacoli di Voci dei luoghi Proseguono gli appuntamenti della rassegna teatrale Voci dei luoghi Musica e parole della resistenza in montagna Inaugurata la scorsa settimana a Torino Venerdì 13 luglio a Consigliole Saluzzo, provincia di Cuneo Con l'Accademia dei Folli e sabato 14 a Rittana in Vallestura Con assemblea teatro Un secolo di locomozione in mostra a Candelo In carrozza, a cavallo, in treno, in auto Comunque sempre in movimento Sono i temi ritratti nella singolare mostra promossa dal Consiglio regionale Dalla carrozza all'aereo, i piemontesi e i mezzi di locomozione Nella fotografia dal 1860 al 1960 La mostra farà tappa nel medievale ricetto di Candelo a Biella fino al 3 agosto Musica 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 Musica